Segnano un aumento del 113% le assunzioni a tempo indeterminato in Lombardia nei primi due mesi del 2015. È quanto emerge dei dati rielaborati dall'Agenzia Regionale dell'Impiego di Regione Lombardia che evidenzano un vero e proprio boom delle assunzioni a tempo indeterminato. È un dato importante che segna sostanzialmente dopo anni e attraverso anche la legge di stabilità e con gli sgravi contributivi che in esso sono contenuti la centralità del tempo indeterminato come rapporto di lavoro. Questo è un dato importante, è un primo segnale che noi non vogliamo sottovalutare. Poi ci sono invece altre questioni che rimangono comunque aperte e che riguardano il futuro dell'occupazione, che riguardano il fatto che se non riprendono i consumi, se non riprendono gli investimenti nel sistema industriale e manifatturiero, è chiaro che gli effetti di un incremento vero e reale dell'occupazione saranno più complicati, ma su questo noi vogliamo aprire il confronto, vogliamo essere sul pezzo e riuscire a spingere anche con il contributo delle novità legate al Giovac e ancora una volta con la legge di stabilità sugli sgravi contributivi, dare anche saldi positivi dell'occupazione e una speranza, una prospettiva per i giovani e per chi cerca lavoro anche in Lombardia.